Cultura, ambiente, eno, gastronomia e territorio sono stati i protagonisti della quarta e ultima tappa del format Il Vesuvio e le sue eccellenze, sapori, cultura e opportunità che da dieci anni promuove e valorizza il Made in Campania, in Italia e all'estero e che quest'anno ha effettuato un'operazione di incoming nelle aree vesuviane, nei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Poggio Marino e Striano, mettendo in rete produttori, buyer, addetti ai lavori e consumatori e valorizzando inoltre il patrimonio culturale e naturalistico. di questi territori grazie al POC Campania 2014-2020. L'ultima tappa si è svolta al Castello Mediceo di Ottaviano, che ospita anche la sede del Lente Parco Nazionale del Vesuvio. Per l'accoglienza alla Kermessa hanno collaborato anche i ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Ottaviano dei Medici. Tra le centinaia di presenti che hanno affollato gli stand espositivi e successivamente partecipato allo show cooking, curato dall'Unione Regionale Cuochi della Campania, team Vesuvio dell'Associazione Cuochi Torre del Greco, area vesuviana, nolan e strianese, c'erano esponenti di importanti gruppi internazionali che hanno effettuato sopralluoghi nei campi di coltivazione e nelle aziende per verificare salubrità dei terreni e metodi di lavorazione accurati e legati ancora alla tradizione. Poi sottoscritto alcuni accordi commerciali. Il mio progetto è quello di rivalutare un attimino il pomodolino del pieno del Vesuvio, ma soprattutto sostenere la filiera agricola, che ritengo che oggi sia la parte più importante di questo progetto di azienda. Ascoltiamo Domenico Iaria, buyer per Leclerc e cash alimentaire, e Marco Palmieri, marketing e business strategist dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Ho già preso appuntamento con queste aziende per fare una visita delle loro produzioni e per firmare già dei contratti, per poter esportare questa roba, questi prodotti in Francia. Il mercato internazionale è molto più vicino a quello locale, perché le distanze sono molto più brevi in virtù del digitale. Quindi oggi andare in America o in Australia effettivamente è solo una questione di fuso orario, perché poi le distanze e i contatti tra cliente e fornitore sono comunque sempre profiqui. L'importanza di un'informazione più consapevole e puntuale per valorizzare le aree fuori dai grandi tour regionali è stata al centro del corso di formazione riservato ai giornalisti e che si è svolto in una delle sale nobili del Castello con relatori d'eccezione e l'intervento del presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli.